No Unicorns, questo è il titolo del brano che abbiamo ascoltato, un brano del collettivo di Icon che fa parte di un lavoro che ufficialmente domani sarà rilasciato dopo una lunga lavorazione ma del resto avrete già capito ascoltando che si tratta di uno di quei lavori belli densi per quanto probabilmente non ci siamo fatti un'idea, anzi non possiamo esserci fatti un'idea così precisa da un brano perché si tratta di un concept che ci fa ascoltare sonorità, direzioni molto distanti tra loro ma facciamocelo raccontare meglio di tutti da chi l'ha pensato, concepito, progettato, suonato, post-prodotto praticamente è un lavoro mastodontico. Adriano Taccoli, benvenuto! Buonasera, buonasera, mi sentite bene? Accidenti, benissimo, benissimo! Adriano Taccoli, compositore, tastierista, uomo addetto a tutti i marchi ingegni strani del progetto di Icon, va bene come definizione? Sì, mi piace come definizione, di solito mi definisco come quello che gira le manopole che non è proprio il massimo della vita Da quello a maestro, diciamo, c'è una gamma in mezzo Senti Adriano, intanto presentaci il tuo compagno di strada musicale che è il nostro compagno di radio pomeridiano e poi entriamo dentro il vostro lavoro Allora, qui con me abbiamo, eccolo qui Che è Massimiliano Liburdi Ah, ok, certo Il chitarrista è come lo definisco io il mio lato bello perché praticamente lui è sempre, mi riporta sempre a, diciamo, il lato positivo delle cose Insomma, quindi ecco, se non fosse stato per lui Sì, sì, ma ovviamente non ci siamo messi d'accordo in questo momento Dopo mi darà questi 50 euro, insomma, per i complimenti Però ecco, lui, insomma, si è chitarrista e senza il quale non avremmo potuto fare niente, insomma perché ecco, noi artisti, noi compositori tendiamo a lasciarci un pochino andare, diciamo Per far fluire la creatività, naturalmente Sì, diciamo, perché c'è questo stereotipo un pochino che l'artista deve essere sempre iperpensieroso, iperdepresso insomma, tutte queste cose che sono assolutamente finte poi tra l'altro però ecco, quando almeno io mi lascio andare in queste spirali senza senso fondamentalmente ecco, ci abbiamo sempre qualcuno come tutti dovremmo avere poi nella vita qualcuno che ti riporta ecco, in questo caso è Massimiliano ecco, esatto beh, ciao a tutti ciao Renzo ciao Adriano ciao Massimiliano e intanto grazie per l'invito ci fa molto piacere essere qui allora, siamo molto curiosi credo di aver detto una sciocchezza cioè una delle ultime sciocchezze che ho detto è stata quella della data di uscita che sapevo essere il 20 ma leggo adesso sul vostro profilo che è diventata il 26 guarda, diciamo che noi da domani praticamente siamo in pre-save su iTunes e su Spotify per pochi eletti onestamente questa è una dinamica quella di Spotify che sono, le capiscono solo loro diciamo però su Spotify, iTunes e su Bandcamp noi inizieremo a rilasciare le cose da domani poi l'uscita effettiva è il 27 quindi la prossima settimana fateci capire che cos'è Beyond the Universe bene, allora vai tu? sì sì, vado io quante ore abbiamo? veramente, possiamo andare ad oltranza possiamo fare teletone pure sull'argomento perfetto allora, dunque innanzitutto Beyond the Universe come hai detto tu è un concept album quindi ha un noi l'abbiamo diviso in due atti ovviamente il primo che esce il primo atto e narra una storia di una donna di nome Emily che una qualsiasi mattina di gennaio si sta recando in una riunione di lavoro a Manhattan prende il treno dalla stazione di Montauk che è una città per chi non lo sapesse che si trova sulla punta dell'arcipelago di Long Island ed è famosa per due motivi uno per il faro e soprattutto per il film Se mi lasci ti cancello abbiamo imparato anche una cosa grazie capito quindi una volta lei è arrivata a New York si trova con suo grande dispiacere insomma un po' in shock si trova in una New York diversa da quella da lei conosciuta per fare un esempio in questa New York le torri gemelle non ci sono il traffico è assordante la neve è grigia è sporca e lo smog avvolge tutto e le strade sono principalmente piene di gente che cammina come zombie che sono ipnotizzati dai loro cellulari insomma la povera Emily capisce di essere finita in un mondo parallelo che poi sarebbe il nostro quello in cui viviamo noi e per cui abbiamo da un lato la storia di Emily intrappolata e sotto shock nel nostro mondo che cerca di tornare nel suo mondo nella sua casa e dall'altra parte abbiamo invece la storia di Abe che è il suo quasi marito chiamiamolo così che ovviamente non ricevendo più notizie di Emily inizia anche lui una ricerca disperata quindi inutile dire che le cose non sono come sembrano e che l'intera vicenda è piena di risvolti psicologici e introspettivi piuttosto che fantascientifici come potrebbe sembrare di primo impatto quindi a quello definire una sorta una crasi tra un film di sì 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 no vai vai no no secondo me guarda per ridere tra di noi io la definisco come una crasi tra un film di David Lynch un film di Christopher Nolan e una puntata di Chismilicia l'eclettismo di qui sopra perché poi da questo punto di vista intanto passo la parola a Massimiliano volevo sapere se Adriano presenta già preventivamente la la sua composizione con parole del genere oppure se questo arriva a posteriori perché magari ti saresti rifiutato pure di prendere la chitarra in braccio magari con questa premessa no 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 allora io conosco Adriano dal 2009 correggimi se sbaglio 2008 sì 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 giusto quindi diciamo ne abbiamo visto insieme di tutte di belle di brutte di cotte di crude però durante questi anni diciamo abbiamo maturato un pochino l'idea durante questi lunghi anni aggiungerei perché è dal 2009 che ci scontriamo un pochino con questa con questa realtà no abbiamo maturato l'idea di provarci seriamente una volta per tutte e quindi Adriano ha scritto questa bellissima storia che poi si è tramutata anche in musica ovviamente oltre ad una tutta la parte diciamo narrativa e allora ci siamo guardati e ci siamo detti vabbè forse questa è la volta buona proviamo la volta buona che ci proviamo seriamente poi se sia la volta buona che ci sia anche un riscontro diciamo di pubblico beh venga però insomma la cosa importante per noi intanto era provarci seriamente quindi sono stato contento di insomma di aver fatto parte di questa di questa avventura speriamo che proseguano nel migliore dei modi noi ce l'abbiamo messa tutta sia a livello come posso dirti tecnico affidandoci a delle persone insomma del settore che sono brave professionisti e persone che sanno il fatto loro insomma quindi ecco diciamo siamo un po' usciti fuori dalla logica del cd fatto in casa che vuoi o non vuoi comunque alla fine il tuo mestiere è quello del musicista se vuoi fare anche il mix dell'album o il mastering insomma ti devi affidare se vuoi farlo cose fatte bene devi affidare delle persone che insomma sanno quello che fanno ecco abbiamo abbiamo ascoltato nella nel primo singolo che abbiamo diffuso qualche minuto fa noi unicorn anche una voce femminile quindi chiedo a entrambi di 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 presentarci il resto del collettivo che non è che non è in collegamento ma che magari con cui recupereremo assolutamente allora quella che avete sentito nel pezzo si chiama Daria Simonetti ed è con noi da qualche anno tra l'altro partecipa attivamente credo anche a un progetto di orchestra solidare con dei ragazzi con delle disabilità insomma è una persona molto impegnata nella musica e nell'attività insomma di supporto come vi ho appena raccontato e abbiamo anche un'altra voce femminile che si chiama Margherita Palladino ed è una ragazza di Salerno o di quelle parti non se non mi sbaglio corregimi poi abbiamo alla batteria Luca Fareri che tra l'altro è anche un ottimo tecnico di di master che è lui che infatti ha curato il master dell'album poi abbiamo Tiziano che è un amico di Tiziano Bernardini che è un nostro amico di vecchia data e lui fa parte del gruppo già da tanti anni come puoi immaginare essendo insomma un amico prima di Adriano di vecchia data e poi anche mio e la voce maschile cioè praticamente il personaggio di Abe in questo caso nella storia di questo album è lui la voce e questo e poi siamo noi poi ci siamo rimasti siete rimasti siete rimasti voi bisogna contentarsi di questo come è giusto che sia scherzi a parte ragazzi parlavamo dell'eclettismo dell'eclettismo perché è chiaro che l'album ha un filo conduttore essendo un concept ma si sviluppa anche stilisticamente attraverso percorsi diversi però si può dire c'ha senso dire alla base qual è se avete un per quanto il termine possa essere ombrello un genere da cui partite da cui fate iniziare le vostre esplorazioni sì guarda assolutamente guarda ti posso dire che a livello compositivo noi siamo tutti quanti di formazione progressive metal progressive rock cioè quella è la base di partenza però è anche una definizione un pochino vaga perché già che dici la parola progressive nella musica stai dicendo tutto e non stai dicendo niente e per cui a me piace pensare che la base di partenza è sempre quello che sono stati i Queen e quello che sono stati i Pink Floyd quello che sono stati i PFM eccetera eccetera tutti questi grandi nomi e il discorso è che stilisticamente nel momento in cui noi scriviamo delle cose si sa dove si parte non si sa mai dove si arriva è quello il problema fondamentale del progressive almeno per come la intendo io cioè la musica deve essere una cosa dinamica non è possibile adesso farò un esempio stupido ma se io sto scrivendo una canzone in cui voglio celebrare tra virgolette il fatto che mi sono lasciato con la mia ragazza cosa che non andrebbe celebrata però se io voglio narrare di questa vicenda come posso pretendere di scrivere una canzone che dall'inizio alla fine è il classico verso ritornello verso ritornello in cui le sonorità sono sempre le stesse ecco io capisco che questo a livello commerciale sicuramente ha dei riscontri e la gente sicuramente vuole ascoltare anche delle cose che sono più riconducibili a un diciamo un ABAB insomma come per fare un parallelismo con la pole con la struttura però per me è molto più onesto dal mio punto di vista poi ovviamente scrivere qualche cosa che al di là della struttura abbia comunque questa progressione da lì progressive abbia questa progressione per cui se io nella mia canzone in cui sto narrando che mi sono lasciato con la mia fidanzata parlo all'inizio di quanto era bella di quanto i ricordi erano belli di quella giornata passata nel parco magari mi aspetto una musica di un tipo se nell'evoluzione poi io mi rendo conto che facendo quel ricordo mi ricordo anche di quel momento in cui abbiamo discusso è normale che ci vada inserire una guitarra distorta o qualche suono che disturbi quell'immagine poetica ed è così che nasce tutto secondo me allora andiamoci ad ascoltare sicuramente la risposta di Icon e per dare un'idea della varietà anzi no proprio sulla sull'intimità prog ce lo lasciamo per il finale adesso andiamo con un qualcosa che a livello di forma canzone è molto più riconoscibile hai fatto già dei nomi e sfidiamo chi ci sta seguendo a a riconoscere qualche ispirazione nel prossimo pezzo che sentiamo presentacelo Adriano in due parole Anthem Anthem è un in due parole è l'aggressività e la molestia di stare in Times Square con tutta la gente intorno ecco che ci preme la calca ecco questo se l'ascoltiamo se posso aggiungere giusto una cosa questo pezzo diciamo rappresenta un pochino quella che è la deviazione della società di oggi insomma quello che accennava anche quello che accennava anche diciamo Adriano all'inizio tutti con gli occhi incollati sui cellulari con la vita che scorre e non ci fai nemmeno caso diciamo che questo come pezzo è un po' più pesantino e industrial come genere con dei suoni un po' particolari diciamo che è più più votato a dei suoni ecco come diceva anche Adriano più aggressivi rispetto ai riferimenti che ti abbiamo dato prima però è da sentire insomma siamo qui apposta e ne abbiamo sentite di suggestioni in questo inno perché poi dall'introduzione veramente vi siete autodichiarati una sorta di nipotini di Roger Waters no? beh sì un pochino come si fa a non essere nipotini di Roger con grandissima umiltà ma ce l'avete ce l'avete suonata molto inizio anni 2000 c'è un po' di muse nelle orecchie non solo sì anche sì sì moltissimo sì diciamo l'idea soprattutto nella parte iniziale era di questa persona perché in questo caso è lui ovviamente il protagonista che va a New York cerca la sua compagna che è dispersa e si ritrova in questa Times Square ed esce dalla metro e quindi c'è questo entrare dentro Times Square con tutte queste luci questi rumori forti insomma abbiamo voluto simulare questa cosa fino ad arrivare alla parte più aggressiva della canzone in cui la voce adesso vabbè perché ovviamente bisognerebbe andare a leggere i testi però sicuramente c'è stata la voce che sono semplicemente delle frasi tipiche perché in inglese ti devo fare la domanda perché tutto in inglese eh allora io ho provato a scrivere nel corso italiano tante cose in italiano ma mi suona sempre male non so per quale motivo non ci riesco ho questo limite io mi viene naturale scrivere in inglese onestamente è una domanda a cui non so rispondere quindi proprio proprio nascono non nascono in italiano e vengono tradotte nascono in inglese assolutamente guarda quando noi scriviamo la musica di pari passo noi scriviamo musica e testi insieme non sono cose che nascono disgiunte separatamente sì e le parole vengono in inglese automaticamente cioè io so che quella notina che noi abbiamo messo che è un mi poi un fa diesis poi un sol per me sono un automaticamente diventano le vedo proprio subito come parole inglesi non so volevo chiedere a Massimiliano se quando Adriano confessa di sentirsi pur a testa bassa e con umiltà nipotino di Roger Waters si sente il peso di Gilmore sulle spalle spero di no peraltro che se no ecco ci si alza la letta immagino non potrei mai reggere il paragone insomma è un peso che non non va portato ecco no no a parte scherzi noi cerchiamo comunque di mantenere una certa identità stilistica che poi ovviamente le influenze della musica con la quale sei cresciuto e con la quale magari hai anche cominciato ad approcciarti allo strumento ti porta comunque a trovare delle soluzioni stilistiche che possono richiamare qualcosa no di famoso diciamo però comunque alla fine cerchiamo sempre di mantenere uno stile senza senza andare a mani pesanti a scopiazzare insomma quelli e senza tra l'altro poi andare diciamo a infilarci in paragoni che poi sarebbero improponibili no ovviamente la cosa dei testi in inglese aggiungo anche che è vero che ci viene ci viene viene naturale più che altro ad Adriano comporre l'intervento inglese ma tra l'altro essendo un genere che in Italia non va particolarmente diciamo che la cosa torna anche da un certo punto di vista utile perché è un genere che è principalmente indirizzato secondo me anche secondo noi a un mercato estero quindi diciamo che la canzone in italiano il pezzo in italiano il testo in italiano fuori a vita breve a meno che non parliamo insomma di gente veramente famosa ma anche che ne so Ramazzotti ha fatto i pezzi spagnolo quando ha fatto gli album del resto abbiamo vissuto in questi mesi l'enorme anomalia dei testi italiani dei maneskin che hanno fatto al giro del mondo ma appunto perché è una cosa che non succedeva da modugno grosso modo esatto anomala direi insomma sì assolutamente tanto di cappello legata poi anche a un'immagine se propongono in modo diverso bea di loro c'è a 90 anni insomma ecco questa è effettivamente una premessa che è il caso di fare questo chi non mi conosce non può sapere che siete bellissimi anche voi ma a modo vostro esatto esatto molto a modo vostro la vostra la vostra declinazione di bellezza estetica ma vi affidate alla musica a proposito di musica perché Reset Day è il primo singolo cosa e come ci introduce poi ce ne ascoltiamo un frammentino perché vorrei chiudere con l'ascolto intero di un altro pezzo allora Reset Day perché il singolo di fatto per un motivo veramente basso proprio becero possiamo dire che è per quella che ha il ritornello più catchy come si dice o sia a chiappa esatto esatto ma al di là di questo per un motivo molto semplice abbiamo fatto una votazione noi del gruppo e abbiamo detto ragazzi quale vogliamo presentare come singolo totalmente ignorando poi qual era quella più commerciale quella più ascoltabile quella cantata dalla ragazza o dal ragazzo abbiamo semplicemente fatto una votazione e all'unanimità è uscita fuori Reset Day non si sa bene il motivo se non questo bello il mood comunque di questa democrazia corinciana come quella di Socrates in cui vi mettete tutte le decisioni in comune prima di ascoltare l'inizio di Reset Day ecco una cosa che non vi ho fatto dire in maniera esplicita ma Beyond the Universe da quanto tempo ce l'avete in testa e quando avete posato il primo dito sul primo strumento allora guarda noi diciamo dal 2019 è terminata la scrittura del disco io poi mi sono andato personalmente a New York per andare a visualizzare proprio i punti che erano nati su Google Maps lo so che fa ridere da ridicola come cosa è uno strumento però sì è uno strumento io ho passato giornate su Google Maps a girare tra le mappe di Google a cercare il posto esatto e mi sono fatto una mappa proprio del percorso che percorre questa donna perduta dentro Manhattan e per cui dal 2019 poi ci sono state ovviamente tutte le emergenze che ben conosciamo tutte le varie problematiche per cui ecco si è andato in molta rilento come può immaginare per andare in studio a fare le incisioni già solo coordinarsi è stato un incubo per cui ecco abbiamo messo un pochino sì purtroppo tra Covid insomma anche qualche disavventura personale inevitabile le cose sono andate un po' più lunghe del previsto però insomma ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo e due parole di introduzione al Reset Day il Reset Day è la giornata che prima o poi dobbiamo vivere tutti quanti cioè la giornata in cui tutto si azzera tutti non importa chi tu sia ecco questo è il concetto ce lo andiamo ad ascoltare allora Reset Day di Icon e allora ci permettiamo di mettere le nostre vociacce sopra questo gran bel pezzo molto entra entra questo ma a proposito dato che abbiamo parlato di tempi compositivi di ispirazione anche le durate dei pezzi già il fatto che stiamo parlando di un concept album non siamo nell'alveo del classico commerciale di oggi quindi c'è tutto scentemente tutto contro dal punto di vista chiamiamolo mercantile penso posso aggiungere solo una cosa sì sì Massimiliano allora in questo pezzo in Reset Day la voce abbiamo un ospite su questo pezzo che è Valerio Granieri che è il cantante di una band romana fanno doom metal si chiamano Romy Monochrome una precisazione sono molto contento hai fatto benissimo perché è un'altra delle ottime parti che compongono questo insieme che a me personalmente è piaciuto molto ecco perché ci ho tenuto anche a questo spazio scherzando ma non troppo ecco io vi voglio salutare così prima di sentire l'ultimo brano dopo appunto esserci congedati come come si tranquillizza un musicofilo medio che magari ascoltando questa chiacchierata avrà detto Dio mamma mia che cosa complicata non posso ascoltarmelo perché non lo capisco che serve sicuramente servono molti ascolti servono e ogni volta si scopre una sfaccettatura diversa sicuramente quella è una cosa che è richiesta in tutto il prog in generale diciamo e la cosa che secondo me tranquillizza è che queste cose sono state scritte quello è il lato positivo perché la cosa brutta sarebbe se queste cose fossero rimaste dentro mentre ecco questo è il lato positivo che uno deve andare a vedere sempre delle cose che finché veramente ci sta un modo di esprimersi allora siamo salvi secondo me ecco voglio lasciare questo messaggio positivo anche troppo forse e vabbè almeno mezza cosa positiva era pure il caso io penso che un minimo tu abbia tolto quella patina quel senso di inferiorità che magari potrebbe essere venuto a qualche ascoltatore accidenti questi sono troppo intellettuali posso dirtelo perché non è il prog cervellotico l'abbiamo fatto ascoltare proprio per questo esatto c'è molta melodia molta sostanza non è niente di particolarmente pesante da sentire scorre bene assolutamente andiamo a ribadire che beyond the universe il 27 sarà urbi e torbi disponibile piattaforme digitali le abbiamo già nominate ripetiamole Adriano si su spotify su itunes amazon chi più ne ha più ne metta veramente youtube ovviamente youtube music e tutto quanto e su bandcamp all'indirizzo the icon tutto attaccato tkicon.bandcamp.com si può comprare direttamente il disco insomma il formato digitale ovviamente ecco mi chiedevo infatti proprio questo supporti fisici non sono previsti? allora supporti fisici si sono previsti assolutamente è previsto un'uscita una volta dopo il secondo atto che uscirà più o meno a fine marzo aprile diciamo una versione collector edition che faremo con e stiamo valutando e questo purtroppo sempre con i tempi di oggi è un po' difficile ma anche allegare delle illustrazioni un booklet illustrato con delle illustrazioni fatte da me medesimo per che narrano la storia insomma e chi si volesse gustare anche le tue creazioni oltre che sonore anche quelle di di grafiche di tutte cose strane che si muovono oltre che videoclip classico di Reset Day ovviamente avete tutti i riferimenti social il canale youtube il profilo facebook e quant'altro perché l'esperienza è effettivamente a 360 gradi e allora di Icon rappresentati dal compositore tastierista Adriano Taccoli dal chitarrista e non solo Massimiliano Liburdi sono stati con noi volevo ringraziandovi chiedere a entrambi proprio due parole per uno di presentazione di She's the One che è il pezzo col quale la suite mi verrebbe da dire con cui ci salutiamo e chiudiamo pure la puntata io sono particolarmente toccato da questa cosa ti ringrazio innanzitutto per l'opportunità veramente per mandare in play questa canzone che è dedicata con tutto il cuore a una persona che non c'è più in questo purtroppo e non c'è altro a dire veramente è un pezzo che ho scritto con tutto il cuore veramente tutto anche il cuore che non ho veramente Adriano Massimiliano grazie e in bocca al lupo grazie grazie a te grazie ciao a tutti